Buongiorno carissimi amici e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. In studio oggi ci sono io, Martina Reolone, siamo a lunedì 20 settembre, andiamo subito assieme a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo con il Corriere delle Alpi. La notizia di apertura, il titolo di apertura è legato alla tematica coronavirus e nel titolone si legge allarme nelle fabbriche 5.000 senza green pass, problemi soprattutto nel comparto manifatturiero, gli industriali attendono le linee guida, sindacati a lavoro sulle mense esterne sui tamponi non è giusto pagare per poter lavorare. Questo il titolo dell'articolo che si trova a pagina 17 e andiamo subito a leggere proprio questa notizia e poi ci fermeremo anche su altre che riguardano appunto l'epidemia da coronavirus. Senza green pass 5.000 lavoratori, rischio brocco per le fabbriche, giornate febbrili e raffica di incontri nelle aziende anche per definire la questione mense. In inverno l'articolo è di Francesco Dalmas. In provincia appunto ci sono 5.000 lavoratori nell'industria manifatturiera senza green pass, persone che rischiano dal 15 ottobre di rimanere fuori dalle fabbriche. È il calcolo che in queste ore si fa negli ambienti di confindustria, sono 24.000 gli addetti del settore. Con gli artigiani arriviamo ad oltre 30.000 collaboratori, ma nelle piccole aziende con una media di due dipendenti e mezzo la percentuale dei non vaccinati, afferma il sociologo Diego Cason, è di gran lunga inferiore. In ogni caso in provincia di Beluno sono 87.000 gli occupati e 70.000 svolgono un lavoro alle dipendenze, gli altri sono partite IVA. Ma indubbiamente la percentuale di chi non vuole vaccinarsi non è indifferente neppure in queste categorie, asserisce Cason. Se da oggi al 15 ottobre non riprenderà l'immunizzazione, per l'economia della provincia saranno dolori. Ecco perché negli uffici confindustriali si attende con grande ansia, come ammette il direttore Andrea Ferrazzi, che il governo espliciti le linee guida dell'obbligatorietà. Lo stesso dicasi per i sindacati, anche loro alla finestra in attesa di delucidazioni governative. Come più volte dichiarato, tutti per noi sindacati dovrebbero vaccinarsi e l'unico modo per contenere e sconfiggere la pandemia. Ma non sta a noi introdurre l'obbligo, afferma Stefano Bona, segretario provinciale della FIOM. Ricordando che a Belluno tutte le aziende metalmeccaniche che hanno un servizio mensa hanno introdotto l'obbligo del certificato verde. A tutte abbiamo chiesto di convocare incontri per condividere soluzioni che non discriminino i non possessori, partendo dal principio che, se posso entrare al lavoro senza certificato verde, ho diritto ai servizi connessi alla prestazione, compresa la mensa. Quindi una questione tutta aperta. E sempre parlando di coronavirus, torniamo a un altro argomento che è affrontato a pagina 5 da Paola Dallanese, da un articolo di Paola Dallanese in cui c'è un'intervista al direttore di malattie infettive, al medico direttore di malattie infettive all'ospedale San Martino. Il primario schiaggiante alle donne incinte dovete temere il virus, non la vaccinazione, c'è questa intervista, come dicevamo, a cura di Paola Dallanese. Questa è l'epidemia dei non vaccinati, parole di Renzo Schiaggiante, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Belluno, che fa il punto sulla situazione epidemiologica in provincia. Il 90% dei ricoverati in ospedale, sottolinea primario, non è immunizzato. Tra loro troviamo molte persone che, vista l'età anagrafica, avrebbero dovuto esserlo già da diverso tempo. A questi pazienti capitano le stesse cose che succedevano nella prima e seconda ondata. Il 10-15% peggiora e un 2-3% finisce in terapia intensiva, perché il virus non è cambiato, i sintomi e gli esiti sono le stesse. Viene appunto chiesto al dottore qual è il risultato del mancato raggiungimento dell'immunità di gregge. Il virus Covid-19 trova ancora persone che non hanno anticorpi ed è quindi libero di trasmettersi. Certo, non come prima, ma questo basta a far circolare il virus. Si parla anche dell'avvio delle somministrazioni delle terze dosi di vaccino. viene chiesto al medico cosa ne pensa. A 9-12 mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale la quantità di anticorpi decresce. La terza dose non fa altro che risollevarli. Poi si parla ancora della situazione anche per particolari categorie di persone. Dopo i casi delle donne incinte colpite da Covid-19 finita in terapia intensiva, si parla molto di vaccinarle. Cosa ne pensa? E lui dice non c'è alcuna controindicazione. Sappiamo che la gravidanza rappresenta un periodo di immunodeficienza sia prima del parto che dopo. Per questo dico che sarebbe bene temere il virus piuttosto che il vaccino. Come medici siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Devo ammettere che in questi mesi ho ricevuto diverse telefonate di donne in gravidanza che chiedevano consigli. Cambiamo argomento, andiamo avanti e ci spostiamo sempre alle prime pagine dell'edizione di Belluno e si parla in questo caso della filiera forestale bellunese. È la seconda puntata di un'inchiesta che sta conducendo il Corriere delle Alpi. L'articolo in questo caso è di Stefano Vietina e si legge nel titolone che errore vendere subito dopo Vaia, ora rincaro del legno, premia gli austriaci. Si parla degli schianti dei tantissimi alberi a terra dopo la terribile tempesta Vaia. L'Italia dopo Vaia ha perso un'occasione importante per il settore del legno svedendo gli schianti invece di gestirne la lavorazione in attesa del ritorno della crescita della domanda di materiale da costruzione. A dirlo sono gli stessi operatori bellunesi. Il mercato è in grande rialzo in questi mesi, conferma Mario Conte, proprietario di un'importante segheria ad Agordo e di un grande magazzino al mass di Sedico. Qualche esempio, il lamerare per strutture utile per la costruzione di case in legno dalla primavera scorsa ad oggi è passato da 230 a 250 euro al metro cubo. Il pannello di scaglie orientate è raddoppiato da 500 a 1000 euro, le perline sono passate da 8 a 16 euro l'una ma che ci guadagna non sono i territori interessati ma gli austriaci come spiega Conte hanno in mano il mercato con segherie che arrivano a fatturare anche 500 mila euro al giorno e gli austriaci sono anche il tramite con la Cina e gli USA che hanno assorbito buona parte del mercato delle igname di qualità. Il motivo? L'economia di questi Colossi sono state le prime a ripartire nel dopo Covid e le prime quindi ad avere bisogno di materiale da costruzione in questo articolo, in questa inchiesta quindi e viene messo in evidenza ancora una volta come l'Italia e la provincia di Belluno abbiano perso un'occasione importante nel settore del legno appunto dopo quanto accaduto con Vaia. Ci spostiamo a pagina 20 dove c'è un articolo, cambiamo argomento, c'è un articolo corredato da ricco materiale fotografico e si parla degli effetti del cambiamento climatico, ci sono le foto della Marmolada, dell'Antelao, della Val dei Cantoni, sul Civetta e ancora delle pale di San Martino e si parla di un tema che è stato affrontato diverse volte nell'ultimo periodo, ossia dei ghiacciai ritirata sempre più rapida, le montagne cambiano aspetto e c'è l'allarme del graciologo Secchieri, in Marmolada le masse gelate si frammentano per poi sparire, c'è questo articolo di Francesco Dalmas. Le Dolomiti, patrimonio dell'umanità con i loro ghiacciai, sono una ricchezza che va sempre più velocemente scomparendo sotto le ingiurie di un clima via via più ostile. È grido d'allarme di Franco Secchieri, uno dei glaciologi più autorevoli. Per documentare quello che sta succedendo al patrimonio glaciale delle nostre montagne ha raccolto in uno studio, edito da Gilberto Padovan, le più belle fotografie dei ghiacciai delle Dolomiti, frutto di un lavoro di studio e ricerca svolto anche in collaborazione con la regione a partire dagli anni 80. Dal confronto tra immagini prevalentemente aeree eseguite durante i suoi voli di ricognizione è maturato un approfondimento per molti versi eccezionale e irripetibile che testimonia il cambiamento dei paesaggi d'alta quota. Con la riduzione o la scomparsa delle masse gelate si modifica profondamente il volto delle montagne, basti pensare, afferma appunto lo studioso, a come sta cambiando rapidamente l'immagine della regina delle Dolomiti, la marmolada, con il più grande e bello dei ghiacciai che si sta gradatamente frammentando in masse sempre più piccole destinate ad una veloce scomparsa. e proprio della marmolada leggevamo non molti giorni fa appunto della situazione critica. Andiamo avanti, ci spostiamo, siamo a pagina 23. Un altro articolo, la diocesi in lutto, addio a Don Pietro dall'Amico, paladino degli scout d'Europa, aveva 90 anni, fu parroco a Polpete, dal 1980 al 2005 a Igne di Longarone, ha chiuso la sua lunga carriera ecclesiastica al santuario del Nevegalle e c'è questo articolo sempre di Francesco Dalmas che parla appunto di Don Pietro definito un'istituzione per Igne e non solo perché il suo ministero sacerdotale è continuato per tanti anni ma in particolare perché da Igne ha contribuito a fondare il gruppo scout d'Europa a Longarone. Questo è il ricordo del sindaco Roberto Padrin per Don Pietro dall'Amico che ieri alle ore 10.55 dopo una breve malattia oncologica è morto, aveva 90 anni, figlio di Giovanni e Maria Canale, era nato in provincia di Padova nel 1931, dopo la formazione nella congregazione di Don Guanella, servi della carità, è stato ordinato presbitero a Nuova, Ologno, Sondrio il 17 aprile del 66, è rimasto nella congregazione fino a 74 quando ho chiesto di essere accolto nella diocesi di Belluno Feltre con la quale aveva conoscenze e legami, ha cominciato sul servizio pastorale nella parrocchia di Polpette dove è rimasto fino al 1980, ha convinto sostenitore dello scoutismo, ha portato gli scout d'Europa nella diocesi di Belluno, nella diocesi bellunese prima a Polpette e poi a Longarone. L'associazione italiana Guida e Scout d'Europa Cattolice è stata costituita a Roma nel 1976, nel 2005 il vescovo Andri che gli chiese di passare al santuario del Nevegal dove Don Pietro ha vissuto una nuova stagione del suo ministero sacerdotale, sempre disponibile come confessore cercato da fedeli e sacerdoti, il lutto quindi nella diocesi di Belluno Feltre. Leggiamo un ultimo articolo prima di passare al gazzettino, in questo caso ci spostiamo a Feltre e si parla della festa del fagiolo salvata dall'oblio come si legge nel titolo, ma organizzare è troppo difficile. Il fauro della Proloco, duro con l'Unione Montana e ULS, nessuna chiarezza sulle regole anti-Covid, grazie invece all'UMPLI, l'Unione delle Proloco. L'articolo è di Roberto Curto, l'obiettivo principale era salvare la festa del fagiolo IGP dall'oblio e ieri il risultato è stato raggiunto con la vendita di prodotto fresco e secco, andata tutto sommato bene e il mercatino che ha animato le vie principali di Lamonne. Ma a margine della giornata sull'altopiano c'è la dura protesta del presidente della Proloco, Ruben Fauro, che ha pianificato e coordinato l'attività di una sessantina di volontari appunto che si sono occupati dell'organizzazione dell'evento. Dico subito, dice che senza la forte presa di posizione dell'UMPLI quest'anno non ci sarebbe stata nessuna festa del fagiolo, ho passato gli ultimi 15 giorni di inferno trovandomi di fronte a posizioni diverse e contrastanti di chi dovrebbe invece dare indicazioni chiare a chi organizza le manifestazioni. E Fauro entra nel dettaglio, non ci siamo mossi fin dall'inizio, ci siamo mossi fin dall'inizio seguendo le direttive UMPLI che sono applicate non solo a Belluno, abbiamo organizzato una manifestazione attenendoci a quel protocollo. Poi ci sono messe di traverso l'Unione Montana-Feltrini e l'ULS che pretendevano altre modalità di accesso alla festa così non si può lavorare né pianificare nulla, dice appunto Fauro senza come come dicevamo tralasciare qualche polemica. Passiamo al gazzettino come dicevamo e andiamo subito alla prima pagina dell'edizione di Belluno che parla del turismo dello sci pronto a ripartire. Sono già in arrivo le prime prenotazioni per il periodo di Natale, settimane bianche, ma ci sono dubbi sull'applicazione del Green Pass. E c'è questo articolo, questo lungo approfondimento che parla anche della riunione che si terrà oggi in provincia, ci sono già appunto diverse prenotazioni per le settimane bianche e la speranza è che il passaporto vaccinale aiuti a ripartire. Le strategie per il Circo Bianco con un tavolo a Palazzo Piloni i tempi sono stretti, ieri i primi fiocchi sulle cime dolomitiche. Alberghi, impianti di risalite, maestri di sci costituiscono un sistema unico dove ciascun elemento vive della forza e del benessere dell'altro. La stagione invernale alle porte come è dimostrato il meteo di ieri con le prime precipitazioni nevose sulle cime dolomitiche, ma la preoccupazione e l'auspicio è che tutto vada bene. I segnali ci sono, le prime prenotazioni per settimane bianche e il periodo di Natale e anche il Green Pass potrebbe garantire la ripartenza, ma tanti sono i dubbi, le incertezze, ad oggi nessuno sa come sarà applicata la certificazione verde per il Circo Bianco. Dalla prossima stagione invernale, di questa stagione invernale si parlerà in un tavolo in provincia oggi, lo spiega Danilo Dettoni, consigliere provinciale con delega al turismo, che fa un bilancio e contemporaneamente allunga lo sguardo. La stagione stiva è andata bene, ma per il futuro ci auguriamo che la pandemia si fermi. Ora partiremo con la strategia messa a punto da Tom Banco, il consulente per la provincia e DMO per il turismo, con il coinvolgimento dei consorzi e le relative strategie di promozione, ma per il momento ogni consorzio lavorerà autonomamente. Facciamo molto affidamento a Vivere il Dolomiti che diventerà un brand e sarà a servizio del futuro. L'articolo in questo caso è di Giovanni Santin, Ski Pass associato a certificato verde, ma poi non ci siano altre limitazioni. Dolomiti Supeschi è già al lavoro per i controlli con i sistemi informatici che abbinano i due pass, ma viene sottolineato una volta approvato Green Pass che è già una nuova complicazione. Fateci lavorare, è quello che viene detto da Marco Papalardo di Dolomiti Supeschi e c'è sempre questo articolo di Giovanni Santin. Si parla in un articolo invece di Alessia Trentin del Nevegal che dà via alle prevendite da inizio novembre e Presidente Molin dice questo inverno sicuramente ci saremo con gli impianti aperti come il nostro, è prevista la capienza del 100%. In un altro articolo ci si sposta sempre nel Feltrino, anche qui si parla della festa del fagiolo alla Mon, un successo, vendite a gonfi e vele, già alle otto di ieri alla Mon tanta gente alla mostra al mercato, ma nel pomeriggio la pioggia intensa ha offuscato la festa e vengono riportate anche qui le dichiarazioni del Presidente della Proloco Ruben Fauro. Spostandoci invece in Sinistra Piave, in questo caso a Limana, c'è un articolo che dà la crona con l'articolo di Olivia Bonetti che parla della festa illegale a cui sono arrivati anche i carabinieri. Notte da incubo per i residenti di Valmorelle, parti fracassone, la casermetta, la struttura data in concessione dal comune, l'evento comunicato anche alla questura ma si parlava di pochi partecipanti, invece era diventato quasi un rave. Dovevano essere solo 20 persone ma la musica, gli schiamazzi, il rumore hanno svelato che in quella festa erano tanti di più, forse oltre il centinaio di persone in barba alle regole anti-assembramento. Visto il fracasso e le lamentele alla festa sono arrivati i carabinieri feltrini, diverse pattuglie sono intervenute nella notte tra sabato e domenica a Valmorelle nella struttura casermetta concessi in affitto dal comune di Limana per eventi e compleanni. Al 112 erano arrivate una pioggia di chiamate di residenti che chiedevano aiuto, all'arrivo dei militari le persone si sono dileguate ma le indagini proseguono. Era una festa privata spiega il sindaco di Limana Milena Dezanetta quanto pare un po' rumorosa, sentiremo gli organizzatori perché avevano dichiarato una cosa precisa, 20 persone al massimo e invece come dicevamo erano ben più di 20 persone in barba appunto a tutte le regole anti-assembramenti. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo come sempre puntuali domattina alle 8 e 30 sulle frequenze di Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Seguite tutti gli aggiornamenti che pubblichiamo sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it intanto grazie a tutti per l'ascolto, un buonissimo lunedì, un buon inizio settimana e ci rivediamo prestissimo, arrivederci, grazie.